Ecco, l'arbitro, il signor Odoardi della sessione di Chieti ha decretato la fine della gara. Qui a Bolognano di Piano d'Orta, la Virtus Castel Trentano, 4 Piano d'Orta, 1. No, vittoria strepitosa dei nostri ragazzi, terminato l'incontro, stanno rientrando, si salutano i calciatori, 4 a 1 a favore della Virtus Castel Trentano. Il primo tempo si è concluso 1 a 0, con rete di Massimini e Matteo. Il secondo tempo è andato a rete da Mario, dopo Loris per 18 sul calcio di rigore. E ancora Massimini a rete. Quindi è terminata la partita, qui a Piano d'Orta. Piano d'Orta, 1, Virtus Castel Trentano, 4. Continua la serie positiva della Virtus Castel Trentano. Signore e signori, arrivederci alla prossima gara.